Come ogni anno, dal 1982, al Sacrario di Ferrara di Montebaldo sono stati ricordati tutti i caduti veronesi nelle due guerre mondiali. Una ricorrenza molto sentita a cui hanno partecipato autorità civili e militari dei 98 paesi della provincia, tanti quanti cippi marmorei presenti in questa cornice suggestiva. La cerimonia è iniziata con l'alza bandiera, l'ino nazionale e l'onore ai caduti eseguiti dalla banda dei bersaglieri di Marostica. Dopo le orazioni istituzionali, la Santa Messa, celebrata da Don Roberto Oberosler, cappellano dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, associazione che ogni anno organizza la cerimonia diretta a livello veronese da Giancarlo Rama. Più volte è stata ricordata la figura e l'opera di Carletto Perazzoli, scomparso nei giorni scorsi, già presidente dell'associazione e protagonista nella costruzione del Sacrario di Ferrara di Montebaldo.